Inizia una nuova puntata di cronache e commenti, il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Anche in questa puntata andiamo a toccare alcuni degli argomenti che sono stati dibattuti all'interno del Parlamentino Toscano. E dunque anche per questa puntata di giugno andiamo a vedere i temi che tratteremo. Il Consiglio Comunale commemora Massimo Pescini, consigliere scomparso prematuramente alcune settimane fa. Approvato il rendiconto finanziario del Consiglio regionale per il 2023. Approvata anche la nuova legge sulle palestre della salute. Si è aperta con il commosso ricordo del Consigliere regionale Massimo Pescini, scomparso prematuramente il 25 maggio scorso a seguito di una malattia. Presente alla commemorazione anche la famiglia del Consigliere ed ex sindaco di San Casciano in Val di Pesa. Un mazzo di fiori ha accompagnato un lungo applauso e le parole dei vari rappresentanti politici che hanno ricordato Pescini colpito da una breve malattia. Una giornata triste. Mi sarei aspettato tutto ma mai di dover salutare un collega, un amico, una persona speciale. Uno di quei rappresentanti delle istituzioni di cui avremmo sempre più bisogno. Non è retorica e non è perché Massimiliano non è più con noi. In questi anni ho imparato a apprezzare l'amore per la sua comunità, l'amore per la Toscana. Nel suo sorriso si legge la buona politica, la politica fatta di ascolto, la politica fatta di prossimità. È un esempio per le ragazze e i ragazzi più giovani. La buona politica esiste e Massimiliano la incarnava. Ne sentiamo la mancanza forte, io sento la mancanza dei suoi consigli. Spesso arrivava nella mia stanza, bussava, entrava e riusciva a trovare sempre le parole giuste anche nei momenti più difficili. Se ne va un uomo educato, se ne va un politico appassionato, se ne va una persona di cui la Toscana tutta sentirà la mancanza. È stato un passaggio difficile, un consiglio carico di commozione, di carica emotiva, dove tutti hanno reso omaggio a Massimiliano Pescini come uomo, ancora prima che come collega, come compagno, come amico. Massimiliano ci ha lasciato causa una malattia terribile in soli 60 giorni. Quella malattia si era manifestata proprio durante i lavori di un consiglio. Il ricordo e il patrimonio che lui ci lascia è quello di una bella faccia della buona politica, della politica fatta con generosità, della politica fatta al servizio della comunità. Massimiliano era sempre con il pensiero rivolto ai bisogni dei territori, ai bisogni della sua comunità, sia quella civile sia quella politica. Insomma, una persona che aveva in mente la politica come servizio e praticava la politica come servizio. Ovviamente siamo rimasti tutti molto scioccati, frastornati dalla velocità e dalla crudeltà che la vita a volte riserva e soprattutto ha riservato a lui. Abbiamo rivolto nuovamente un grande abbraccio affettuoso alla sua compagna, a babbo, alla mamma, alla sua famiglia, a tutte quelle persone che a San Casciano e in Toscana gli avevano reso un grande omaggio, un grande abbraccio con una partecipazione straordinaria e commossa come anche questa mattina abbiamo visto in aula. Io vorrei ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, ricordandolo con parole bellissime ma appropriate, comprese i rappresentanti delle minoranze, a dimostrazione che si può fare la politica con il ragionamento, si può fare la politica basandosi sulle idee e confrontandosi sulla bontà delle proprie convinzioni per trovare una sintesi che ci faccia andare avanti nell'interesse complessivo. Massimiliano era una persona che sapeva fare questo, era anche una persona allegra, una persona che sapeva sdrammatizzare, che aveva delle battute simpatiche ed efficaci, era insomma una persona capace di tessere e di dialogare. Questo è stato riconosciuto da tutti e credo che lui ci lascia un grande patrimonio, oltre a un grande ricordo, perché quando pensiamo a lui sicuramente riusciremo ad interpretare la politica in una maniera migliore. Nell'ultimo consiglio regionale si è insediata Fiammetta Capirossi, neoconsigliere che subentra al posto di Pescini. Già consigliera nella scorsa consigliatura dal 2015 al 2020, ha ricoperto nella sua vita politica anche il ruolo di assessore nel comune di Scarperia. Sì, grazie. Oggi è stata una giornata veramente molto complicata. Stamattina per un motivo e oggi pomeriggio con il mio insediamento per un altro. pensavo di essere più forte, invece oggi mi sono scoperta molto più debole di quello che non credevo, perché avevo promesso a me stessa che avrei dato onore a Massimiliano cercando di non piangere, invece così non è stato e ancora faccio fatia. Sono felicissima di poter rendermi utile al mio territorio. So che Massimiliano mi avrebbe detto Fiamma, vai e fai quello che sai fare. Quindi con questa spinta e con l'abbraccio dei familiari stamani che per me è un conforto incredibile, spero di poter essere utile per il mio territorio, per la regione e per il mio partito che mi ha sempre sostenuto e per cui ho sempre lottato. Approvato durante l'ultimo Consiglio regionale che si è riunito lo scorso 12 giugno, il rendiconto per l'esercizio finanziario del Consiglio per il 2023. A fronte di previsioni iniziali di entrate e di uscite stimate in 31 milioni e 439 mila euro, ci sono state variazioni in aumento sia di entrate che di uscite di oltre 7 milioni e 846 mila euro, determinando dunque un ammontare delle previsioni definitive di oltre 39 milioni e 286 mila euro. Il bilancio totale ha visto un avanzo di amministrazione nel 2023 di 7 milioni e 283 mila euro. I numeri ci parlano di una gestione sicuramente attenta, oculata ed anche efficace, ciò è dato dagli aspetti di bilancio contabile in senso più stretto, però anche il fatto che il rendiconto consegni al Consiglio regionale in questo esercizio 1 milione e 700 mila euro di disponibilità da poter utilizzare in maniera libera sia per spesa di investimento che per spese correnti, ma una tanto ci segnalano appunto come l'attenzione alla spesa e ai costi sia stata un'attenzione che ha prodotto anche risultati utili. Quindi io giudico questo positivamente, in quanto così come solitamente il bilancio viene condiviso dall'ufficio di Presidenza, ci possa anche essere in maniera condivisa l'utilizzo di queste risorse che noi potremo appunto usare in questo esercizio 2024, così come è stato fatto anche in precedenza, allorché gli avanzi di amministrazione del bilancio del Consiglio sono stati utilizzati anche di volta in volta per esigenze, bisogni o anche emergenze. Ricordo ad esempio i contributi stanziati mesi fa nel 2023 per sostenere i comuni impegnati dalle alluvioni e da eventi calamitosi. Ecco, quindi le frequenti variazioni di bilancio che qualcuno in aula ha sollevato come elemento di criticità, noi riteniamo invece che siano elementi che attestino una gestione attenta, proprio una gestione che guarda anche all'evoluzione dei fatti e destina le risorse in base anche alle esigenze che di volta in volta si presentano. Il gruppo della Lega ha votato contrario al rendiconto del Consiglio regionale mettendo in evidenza alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. Il primo è quello che ci sono continui avanzi liberi, ormai da parecchi anni, che a nostro avviso testimoniano una scarsa programmazione e probabilmente anche eccessive risorse a disposizione del Consiglio. Peraltro sotto questo profilo abbiamo evidenziato la necessità che avevamo richiesto già da tempo di una dotazione per le proposte di legge e di iniziativa del Consiglio regionale di risorse economiche da questo punto di vista che invece non trovano ancora soluzione fra Giunta e Consiglio regionale. Alla luce di questo e alla luce anche di una difficoltà di programmazione di molti settori che non riescano nemmeno a spendere le risorse abbiamo confermato un segnale negativo che avevamo già dato e abbiamo votato contrario. Il Consiglio regionale tra le proposte approvate ha detto sì anche alla nuova legge sulle disposizioni per il riconoscimento in materia di palestre della salute. Sono strutture di natura non sanitaria, sia pubbliche che private, nelle quali si possono svolgere i programmi di esercizio fisico strutturato sotto il controllo di figure professionali previste dallo stesso decreto. Con questa legge si vanno a stabilire i requisiti strutturali ed organici che rendano questi luoghi idonei all'attività fisica per persone che presentano determinate patologie. Una legge importante per la Toscana, una delle prime regioni d'Italia ad adeguarsi, nascono le palestre della salute, dei luoghi dove si può fare sport in sicurezza, dove dei professionisti possono accompagnare gli esercizi fisici strutturati dei singoli individui che quindi hanno dei professionisti che possono dare dei consigli, possono dare un supporto, non soltanto laureati in scienze motorie, ma anche laureati in scienze dell'alimentazione e non solo in medici dello sport. Spetterà adesso alla giunta regionale definire criteri, metodologie, personali da assegnare in quelle palestre dove ci sarà un riconoscimento oggettivo, sarà una novità importante perché diventeranno luoghi di sport e luoghi di salute. Non è un'iniziativa di carattere sanitario, ma la salute in questo caso si produce mediante lo sport che sviluppa prevenzione. Sono molto orgoglioso di essere stato il firmatario di questa legge che dà alla Toscana anche l'orgoglio di introdurre una novità importante, magari anche il sogno di riconoscere il Pegaso fuori di una palestra che dà anche una garanzia e tranquillità a tanti genitori che mandano i propri figli in questi luoghi a fare sport. Un'occasione persa. Noi siamo convinti che lo sport, specialmente per chi lo fa oltre 40 anni, sia soprattutto una pratica che serve a avere una salute migliore. Le palestre della salute sono una certificazione perché in alcune palestre si possono trovare anche dei servizi anziché no. E noi, per esempio, riteniamo che per avere la certificazione della palestra della salute si debba avere uno spazio dove ci possa essere un ambulatorio di specialisti, dove venga fatta un'attività diagnostica di bassa e media intensità, dove venga fatta un'attività di screening e di prevenzione, per cui se il consigliere Petrucci va in palestra nel tal posto sa che lì può trovare una volta alla settimana, una volta al mese, la possibilità di fare un elettrocardiogramma sotto sforzo, la possibilità di misurarsi la pressione, la possibilità di avere una visita specialistica, piuttosto che fare un'attività di screening e prevenzione, anche a pagamento tutto questo, per scelta volontaria. Quindi se vado a una palestra Rossi, che è una palestra della salute, trovo anche questo tipo di attività, se vado a una palestra Bianchi non la trovo e in virtù di questo scelgo una palestra anziché l'altra. Un'occasione persa, quindi su questo pensiamo che questa legge sia una non-legge che non serve a nulla se non a fare un esercizio dialettico e retorico e noi pensiamo che i toscani abbiano bisogno di alto, di scelte coraggiose anche in questo ambito. Direi che abbiamo ripetuto quanto avevamo detto in commissione, era stato un voto all'unanimità, c'è stato qualche battibecco perché la maggioranza ha bocciato un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che alla fine poi non hanno votato il provvedimento. Per quanto mi riguarda, nel mio intervento ho evidenziato quanto sia importante che non rimanga un esercizio sterile di stile, diciamo, perché la palestra della salute non deve essere un qualche cosa che dà una medaglietta a una palestra, ma deve essere un luogo sicuro dove soggetti fragili vanno fiduciosi di poter in qualche modo essere accuditi laddove ci fosse dei problemi. Non è un studio medico né una palestra di natura medica, è un qualche cosa di sportivo per quei soggetti fragili che comunque vogliono mantenere un esercizio fisico adeguato, pur avendo delle problematiche fisiche, conseguentemente sentirsi tutelati. È tutto da cronache e commenti. L'appuntamento, come sempre, è ogni settimana per raccontare quello che viene raccolto e dibattuto all'interno del parlamentino toscano. Ci vediamo fra sette giorni. Grazie. 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 Grazie.